Torniamo a vincere in casa, ma ragazzi... No, io non posso arrivare... Quante partite mancano? 6-5? Più o meno? Ma ragazzi, non possiamo, cioè non esiste... Non possiamo giocare un campionato risicando così... Cioè, levato che a Parma abbiamo fatto il terzo gol al 95esimo... Più o meno stessa partita, eh... Allora, analisi... Tre gol da Pallinattiva. In realtà ha fatto più gol il Geno del Mina, perché è un altro gol. Noi da Pallinattiva soffriamo sempre. È dall'inizio dell'anno che noi da Pallinattiva non ci capiamo una sega. Proprio detto... Detto senza termini, senza mezzi termini, ragazzi... Noi da Pallinattiva soffriamo tantissimo. Tomori si perde destro in una maniera... Spaventosa. Cioè, come... Poi a perderti un marcatore così, cioè... Ma chi è allo stretto? Chi è allo stretto? E si lascia lo sfuggire. Tomori che comunque si riscatta nel secondo tempo salvando un gol fatto. Gol fatto. Rigore in movimento senza portiere. Di Berami. Andiamo in vantaggio con Rebic. Trova un colpo da biliardo. Che ogni tanto, ragazzi, quando proprio gli prende il matto a Rebic, quando decide che magari è l'ora di fare qualcosa, lo fa. È bene così. Ci sono due Milan. Uno che va in vantaggio. Prova a fare il secondo. E lo prende la prima cosa ne vuole. È il Milan. che fa un gol, la parida è finita. Giochiamo a sbagliare e lo prende. In questo caso si tratta della prima opzione. Genoa che comunque non si fa così pericoloso. Perché tipo fa un tiro con destra ma non si rende pericoloso. Leao nel frattempo sbaglia proprio tutto quello che può sbagliare. E voi che tanto zannate Leao, 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 come se fosse Dio scesa in terra. Leao, sì, fa gol, ma ne sbaglia altrettanti. Cioè, io Rubinio ce l'ho già avuto. Non ne voglio il secondo. Leao ha avuto almeno tre occasioni prima di uscire e le ha cannate tutte quante. La prima tiro in diagonale con Perina è scivolato. La seconda poteva dare a pare che sì, che andava davanti a Perina solo se è incartato. E la terza, l'inizio e il secondo tempo, ha fatto uguale. Gli arriva un filtrante, Leao parte. Dà il tempo a Radovanovic di girarsi. Ci rendiamo conto? Spesso e volentieri troppo innamorato del pallone. Benazer, faccio un piccolo appunto su di lui. Mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Alla fine ha avuto una buona visione. Ma ha fatto a partire due contropedie al Genoa veramente, veramente pericolosi. A grande richiesta nella live di Twitch, che la potete vedere, se andate sul mio canale di Twitch potete vedere la live di Milan Genoa e Recap. E dall'altro vi informo che tra poco andremo anche in live per Atalanta-Juventus e stasera Napoli-Inter, giusto perché voi lo sappiate. Dico, il Neggio è l'entrata in Mandzukic. Mandzukic, ragazzi, anche se non fa gol, fa più lavoro sporco di tutti i tre trequartisti. Parliamoci chiaro. Fa tantissimo lavoro sporco. Sul gol si fa dare una spinta alla scamaca che poi girandosi si butta la palla in porta. Una serie di eventi, anche recuperi palla. Nel recupero ha fatto due, tre tripling, ha fatto partire contro piedi. Mandzukic, anche se non fa gol, è determinante in altri ambiti. Quindi bene così. Bicchiere mezzo pieno e abbiamo vinto finalmente in casa. E soprattutto, ripeto, dopo c'è Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. Quindi due delle quattro, al massimo, se pareggiano, tutte e quattro, lasciando stare l'Inter, vabbè, che è davanti, possiamo guadagnare un po' di terreno. Meno male. Questa è stata la mia analisi. Migliore in campo Rebic. Anche se in inizio e secondo tempo si è mangiato un gol che se fossi stato lì l'avrei preso a testate contro i cartelloni. E peggiore... Leao. Leao, sì. Secondo me, sì. Alla fine, quando vinci, il peggiore... Comunque, di solito è sopra la media. Però, leao. Di loro mi è piaciuto molto... Oddio. Piazza da quando è entrato, mi è piaciuto destro, ovviamente. Mi è piaciuto Zajic e Badel. Mi sono piaciuti molto. Perin non ha fatto dei miracoli, sinceramente, perché alla fine è un'occasione più clamorosa che non si è trasformata in gol. L'ha sparata al terzo anno della Rebic. Quindi, ragazzi, questa è la mia analisi. Vi dico che sono molto preoccupato, perché poi quando arrivano le squadre forti, tipo la Lazio, queste partite, ragazzi, le perdi alla grande. Quindi, salvatevi questa parte di video per poi, quando giocheremo contro la Lazio, tra due partite. Grazie per aver bisogno di questo video. Ci vediamo su Twitch. Tra poco, perché ci sarà Atalanta, Juventus. Poi ci sarà un piccolo break. E se sarà sempre su Twitch, sia Weekend League che Napoli Inter. Quindi, chi vuole venire, ragazzi. Adriano Rippi, tutto su Twitch, attaccato. Attaccato il nickname. Ci vediamo su Twitch. A breve, alle tre, riattacchiamo. Ciao a tutti ragazzi. Grazie per la visione.